Se te risponde mezzio, capisci come c'è zio? Sì, lo passo zio. No, prima dici come stai? Ciao zio, come stai? Ah no, ci dice nonna per orecca. Sì. Pronto? Ciao zio, Giovanni sogno. Chi sei? Giovanni. Ma quale è Giovanni? Tonebote. Ma quale? Caracò. Caracò? Ma a voce non mi sembra di meno voce. No zio, io sogno Giovanni, che fai? Che fai? E lo zio? Forse non si sente buono il telefono. Ma non lo so, io la voce tua non mi sembra quella di Giovanni. No, io sogno zio. E questa mamma che dici? E c'hai la caronna. Caronna? Eh. La nonna come sta? Eh insomma, non tanto male. Non tanto male, no. Ida se lamenta sempre. Eh, se lamenta sempre perché sta giù buono. Eh, brava. Quando uno sta buono ci lamenta. Sì. Sì. O zio? Eh, non parco. Eh. Mi faccio così un saluto. Aspetta un momento che vogliamo. Sì. Ciao. Giovanni. Ciao. Giovanni. Giovanni non puoi venire però, ci vieni in bagno. Sì. Ah, in bagno. Sì. Sì, in bagno. Ma io un po' la spiaggia ma c'è troppo cavolo. Troppo cavolo. Sì, non si può stare la spiaggia. Non si può stare proprio. No, no. Cando al tuo qualcuno ma anche tu puoi resistere. Vabbè, zia. Sì. 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 Ma, perché due euro? Tempo un mese di tonno, zia. Io non posso, perché i cazunizi si sono scatti a pagare. Come c'era la padante. Sì. Sì. Ho capito. Sì. Oggi si bisogna pagare perché era l'ultimo giorno che scadeva oggi. Ho capito. Sono strati, ciò non ti posso aiutare. Ma il zio mi può dare una mano? No, niente di me. Adesso nemmeno. C'è mai avuto troppo un padotto. Prima che venne i sottari, i mesi scolto, quindi ci sono stati stessi da qui. Ho capito. Abbiamo pagato tutti i contributi, ci sono ragazzi. E perciò a fare l'estate senza macchina? E non mi dispiace, Giovanni. Mi dispiace un sacco, veramente, se potevo lo facevo, ma non è certo. Vabbè, zia, ti chiamo dopo, va. Vabbè, non è bene. Scusami. No, niente. Sì. Sì, grazie. Sì, grazie.